Melanie per Antonella Imbriani, shortly 15, festival a qualcuno piace in breve. Allora, le tre ragazze, i monologhi sembravano molto personali per ognuno. Infatti gli volevo chiedere se l'hanno scritto loro proprio per loro... ognuno per il suo personaggio, perché sembrava una tema per ognuno che toccava qualcosa di molto personale. E una cosa anche universale, alla fine tutti e tre i personaggi rappresentavano un aspetto di ognuno di noi e il nostro rapporto col tempo.